I dieci minuti accademici sono passati e direi di incominciare questa serata. Una serata dedicata a un libro, la ceramica di Castellamonte, perché è proprio qui? Perché all'interno ci sono tre vostri cittadini di Vistrorio, nonché facenti parte della comunità Damanhur. Questi tre artisti li vedrete al tavolo, li sentirete e parleranno in modo specifico della loro esperienza con la ceramica. Io in realtà sono una delle autrici, assieme a Maurizio Bertodatto, ma questa sera farò il doppio ruolo, cioè anche quella di dirigere un po' i lavori. Come vedete a questo tavolo siamo molti e questo non può che farci piacere. Prima di tutto perché abbiamo una rappresentanza di sindaci, di uomini politici, che ci fa piacere la loro presenza perché vuol dire che sono sensibili agli eventi culturali che avvengono sul territorio. L'altra cosa invece è perché abbiamo una serie di artisti, oltre quelli citati nel libro, quindi che operano prevalentemente col materiale ceramica, anche con pittura e anche con il restauro. Perché questo? Perché la diffusione della cultura dell'alte in generale non può che far sì che i linguaggi si propaghino, soprattutto a livello culturale e artistico, ma soprattutto che anche interagiscono l'uno con l'altro e ne valorizzino il contenuto. Allora, innanzitutto lascerei la parola al sindaco di Vidracco, Antonio Bernini, che tra l'altro è la mia conoscenza di lungo data perché ha valorizzato tutto il territorio con interventi anche di arredo urbano, facendo concorsi anche con materiale ceramico e per questo ovviamente il mio personale applauso, ma anche il applauso di tutti gli artisti della città di Castellamonte che hanno aderito. Grazie. Grazie, grazie di questa introduzione. Allora, io apro i saluti istituzionali come sindaco del comune ospite. Saluto, ma soprattutto ringrazio le persone che interverranno oggi perché direi che questa iniziativa è proprio il frutto di un lavoro corale. Quindi saluto innanzitutto gli autori del libro Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, l'editore Egno Pedrini, come vedete sono un boomer se non ho tutto scritto, rischio di non ricordarmi, i colleghi amministratori, il sindaco di Baldissero Canavese, Ferrero Luigi Vercelli, i sindaci in sala che sono il sindaco di Vistrorio e il sindaco di Ozzegna, facente funzione, e il consigliere regionale Sergio Bartoli, a cui rinnovo gli auguri per la recente elezione. Quest'incontro per il pubblico, proprio poche parole perché dobbiamo essere concisi, perché i contenuti di questo incontro sono molti. Per sottolineare forse quello che è evidente, che questa iniziativa è molto importante per il nostro territorio, per Vidracco, per la comunità di Damoro, per le persone che sono venute qui a sentire e che sono collegate a questa conferenza, perché rappresenta un elemento chiaro, un indicatore chiaro dell'integrazione tra esperienze diverse che però si ritrovano sul territorio e che lavorano per il bene del territorio. Raccontavo prima a Sandra Baruzzi che domenica scorsa mi sono trovato a dare delle indicazioni all'autista di un pullman che era qui a Vidracco che portava degli israeliani che avevano visitato Damoro e che volevano andare in visita in Val Chiusella. Qui è normale avere persone che vengono da tutto il mondo, è normale avere persone da ogni continente che si trovano qui. Però il mondo inizia sempre dalla porta di casa, cosa abbiamo vicino alla porta di casa e quindi non avrebbe senso che la ricchezza culturale che io riconosco essere in questo territorio possa soltanto confrontarsi con quello che è lontano da qui. Non avrebbe senso se non partisse dal confronto e dall'interazione con quello che c'è qui, su quello che c'è sul territorio. Quindi questo evento ha un significato proprio perché si impara nello scambio, si impara nella reciprocità. Come ricordava Sandra Baruzzi, la nostra amministrazione ha fatto un'iniziativa negli anni per poter integrare, coinvolgere, dare spazio e visibilità agli artisti locali, anche a quelli non professionisti. Abbiamo fatto più concorsi artistici, alcuni hanno prodotto delle opere che si trovano all'interno degli edifici comunali e che fanno arredo, altre sono all'interno del paese. Nell'idea di fare del piccolo paese di Vidracco un luogo d'arte all'aperto, quindi poterne fruire. E tra l'altro un'opera di Baruzzi si trova proprio in uno degli ingressi del paese ed è diventato poi un simbolo del paese. Oggi ne vedete diversi di meno di quelli che c'erano negli anni scorsi perché per fortuna negli ultimi anni ci sono stati molti interventi di recupero anche grazie ai 110 e la riqualificazione del patrimonio privato ha permesso anche, ha reso necessario staccare le opere d'arte che saranno poi nuovamente ricollocate. Però lo spirito è proprio quello di collegare e di integrare. Mi limito a questo sottolineando appunto l'importanza dell'iniziativa e ringraziando tantissimo gli organizzatori. Non ultimo per importanza, aspettate per l'applauso, ringrazio Simone Teodoro in Arte Cobra che è stata poi la persona che ha permesso di arrivare a questo tipo di evento e la persona per cui vi chiedo un applauso sottolineando che è consigliere nel comune di Baldissera. Allora io mi voglio aggregare questi ringraziamenti, l'avrei fatto dopo ma ne approfitto colgo l'occasione proprio perché è stato prezioso sia per i collegamenti con gli artisti all'interno ma anche per il dono che ci ha fatto oggi della visita del tempio sia esterno che quello sotterraneo e che devo dire a tutti i presenti, non so se siate già stati, ma in effetti merita per la grande capacità di rappresentazione di un'arte che coinvolge a livello spirituale ma proprio dove si vede la competenza, la professionalità, la conoscenza di un mestiere. Altra cosa che mi sono dimenticata e mi scuso perché non è la mia propria professione fare questo ruolo è che qui in sala noi stiamo andando in diretta e c'è anche il traduttore Manta per la lingua inglese che fra l'altro è responsabile delle comunicazioni in Damanhur e quindi prego a tutti i relatori di parlare lentamente e di dare il tempo a Manta di poter fare la traduzione. Mi scuso per non averlo detto inizialmente, grazie a Manta per il lavoro che sta svolgendo. Passerei ora la parola al sindaco di Baldissero, quindi paese confinante per la sua presenza, ci onora per la sensibilità anche che ha verso il mondo della ceramica anche perché è anche vicino a Castellamonte e quindi è chiaro che ha anche una profonda conoscenza, il dottor Luigi Ferrero Vercelli. Senza dottore solo Luigi. Ringrazio tutti, sapete che di solito io leggo perché l'età va avanti. Allora buonasera a tutti, volevo semplicemente ringraziare tutti i presenti per la partecipazione a questo evento e in particolar modo Damanhur Crea che ci ospita e gli autori di questo libro. Io non sono un esperto di arte, tantomeno di ceramica, però ho letto questo volume con molto interesse e mi è apparsa particolarmente azzeccata la formula. La prima parte storica, molto curiosa e non pesante. La seconda parte contemporanea fa conoscere quanti e quali artisti lavorano nel campo della ceramica. Io non immaginavo che ce ne fossero così tanti in zona. Sono belle anche le interviste ad ognuno di loro dalle quali traspare in modo evidente tutta la passione per l'argilla e per la loro arte. Non ho potuto fare a meno di notare l'importanza che riveste l'istituto d'arte Felice Faccio. Quanti di loro hanno frequentato e insegnato in questa scuola, non a caso eccellenza della città di Castellamonte? Quando le generazioni future sfoglieranno queste pagine avranno sicuramente un supporto per capire il mondo della ceramica che noi stiamo vivendo oggi. Questa mi sembra una cosa importante e per questo direi che gli autori Sandro Baruzzi e Maurizio Bertodatto meritano un applauso. Adesso la parola va ad Alessandro Musso che è capogruppo di maggioranza perché il sindaco, il dottor Pasquale Mazza non è potuto essere presente per altri impegni direi più di carattere politico. Grazie mille. Buonasera a tutti. Io ovviamente vi saluto da parte mia e porto i saluti come diceva Sandra del sindaco Pasquale Mazza e di tutta l'amministrazione comunica Castellamonte. Pasquale non è riuscito ad essere presente ma... Devo parlare piano. Io ho più lentamente. Chi mi conosce sa che a me piace parlare tanto e velocemente di un problema ma cercherò di moderarmi. Io non voglio rubare troppo tempo. Saluto e ringrazio i padroni di casa quindi da Manor Crea. Tra l'altro è la prima volta che io vengo in questa sala e devo dire che è veramente bella e spaziosa. Ringrazio i due autori, Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, tutti i miei colleghi amministratori e gli artisti che stasera direi diranno cose più interessanti di quelle che posso dire io. L'unica cosa che voglio aggiungere, che ci teniamo a sottolineare sempre come amministrazione è che siamo ovviamente fieri e orgogliosi della ceramica Castellamonte perché è la nostra materia di punte, quello che ci contraddistingue da tempo e che ci rende specifici all'interno del Piemonte, non solo del Canavese. Però io credo che il libro scritto da Sandra e da Maurizio sia la dimostrazione che Castellamonte è il centro di qualcosa di più grande, di dimensione quantomeno canavesana, che è la ceramica, di cui Castellamonte appunto è un centro, è attrattivo, ma non siamo solo noi. La dimostrazione sono tutti i ceramisti seduti a questo tavolo questa sera che a Castellamonte lavorano, vengono da noi, ma non sono prettamente castellamontesi, quindi non dobbiamo neanche essere gelosi di quello che ci contraddistingue, cioè il bello è che è una materia che si è sviluppata in particolare a Castellamonte ma anche in tutto il Canavese. Il libro, cosa posso dire? È un libro molto bello, scritto molto bene e di cui sentivamo la mancanza, perché a Castellamonte in realtà pubblicazioni sulla ceramica ce ne sono già state molte nel passato, alcune molto belle, molto approfondite, però di recenti ce ne erano poche. E questo libro è veramente una fotografia, come giustamente qualcuno prima di me ha detto, sia di ciò che è storicamente accaduto a Castellamonte rispetto alla ceramica, alla terracotta, ma è anche un'istantanea di quello che succede oggi a Castellamonte in Canavese rispetto a questa materia. Io credo che questo sia importante sia per far capire a noi contemporanei che in realtà ceramisti sono molti, la ceramica è una materia viva, ma servirà credo anche in futuro a avere un dato storico rispetto a quello che era lo stato dell'arte a Castellamonte e nel Canavese rispetto alla materia ceramica. Quindi per questo ancora una volta io ringrazio Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto e passo la parola. Grazie a tutti e buona serata. Penso che Manta abbia avuto qualche difficoltà nella traduzione, però al di là di questo passerei a Sergio Bartoli che è stato sindaco del comune di Ozzegna, quindi confinante con la città di Castellamonte dal 2016 al 2024 e oggi invece ricopre la carica di consigliere regionale del Piemonte. Quindi lo ringraziamo di aver avuto tempo per essere presente e darci una lettura di quello che pensa di questo territorio, soprattutto delle attività culturali che vengono svolte in territorio che a mio avviso può essere in espansione sotto entrambi gli aspetti. Buonasera a tutti, è per me un piacere intanto essere qua, portare i saluti del Consiglio regionale e i miei personali. Ringrazio per l'invito, saluto tutte le autorità, ho visto che c'era il comandante del capitano di Ivrea, i sindaci presenti, ringrazio gli autori, gli artisti, Cobra che come caro amico ci teneva tanto e quindi mi fa davvero piacere essere qui con voi questa sera. Che dire, credo che la ceramica di Castellamonte non è solo, come dire, un materiale artigianale, ma credo che sia proprio l'idea di promuovere attraverso un'opera letteraria di questa nostra eccellenza non può che far piacere perché credo che merita davvero tanto che questo territorio si cerca di valorizzare e promuovere questo territorio attraverso le nostre eccellenze e questo credo che sia un dovere nostro da parte dei politici, da parte degli amministratori locali perché è davvero un'eccellenza che non dobbiamo, come dire, trascurare. Quindi io vi ringrazio e sono orgoglioso di poter promuovere questa nostra eccellenza del canavese. Da parte mia, per quello che posso essere utile dal Consiglio regionale farò del mio meglio, il massimo che posso fare per qualsiasi cosa che possa essere utile a questo territorio, a promuovere questa eccellenza. Vi ringrazio, non voglio dilungarmi ancora perché credo che la parola spetta agli autori di spiegare l'opera letteraria di questa sera. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Ovviamente mentre noi siamo qui e vi parliamo abbiamo Guiducci Massimo che sta dandoci dimostrazione pratica di un momento di lavorazione con la ceramica di Castellamonte, ovvero quello della tornitura. Quindi chi si volesse poi avvicinare e anche provare, così vi rendete conto di quanto sia impegnativo fare questo mestiere, in particolare questo momento di lavorazione della foggiatura per Altornio. Adesso la parola al mitico, inarrestabile, Ennio Pedrini, delle edizioni Pedrini che ci ha dato la possibilità di pubblicare questo libro e soprattutto lo sta diffondendo con una serie di appuntamenti su tutto il territorio. e questo ti ringraziamo, sì io e anche Maurizio, ma veramente il ringraziamento è corale da parte di tutti i ceramisti oltre che dell'amministrazione. Grazie. Buonasera. Grazie alle autorità istituzionali, ai militari presenti, grazie ai sindaci, soprattutto grazie a voi che siete il pubblico. Senza di voi, senza le vostre presenze, questa sera avrebbe avuto poco senso. E quindi il mio ringraziamento più importante va proprio alle persone che hanno seguito, che sono qua questa sera, che vogliono capire cos'è la ceramica e cos'è questo libro. Allora, le edizioni Pedrini brevissimamente compiono il prossimo anno 75 anni di attività. Lavorano prevalentemente in Piemonte, Liguria e Lombardia, quindi nel nord-ovest. Ritornando al buon ball libro sulla ceramica, quando Sandra Baruzzi mi ha contattato e abbiamo valutato con grande attenzione perché le pagine sono 300 e sono tutte a colori. È un libro su carta patinata, un libro che ha effettivamente dei costi non indifferenti. Però, proprio per tradizione, noi seguiamo i libri del territorio. Non solo, ovviamente. L'altro giorno abbiamo segnato il Premio Magico, un concorso nazionale in tutta Italia, per dire. Ma questo libro, a mio avviso, e avviso anche della nostra struttura, meritava la pubblicazione. Il lavoro che è stato fatto per la parte storica da Maurizio, è il lavoro da parte più contemporanea, ma non meno importante, anzi assolutamente importante, perché determina con un'immagine ciò che è oggi la ceramica, è quello che ha fatto la Sandra Baruzzi. Questo libro, sì, è vero, l'abbiamo portato, lo stiamo ancora portando in giro. Eravamo a Torino l'altro ieri, siamo stati a Roma a maggio a firmare un contratto. Le nostre edizioni, insieme alla Fintrinelli, è un'altra azienda che operano direttamente col governo in Cina. Questo libro è uno dei cinque libri che sarà tradotto in cinese e non è un libro che parla solo di Castellamonte e della ceramica, ma è un libro che parla anche di Canavese. E voi capite che entrare su un mercato in lingua cinese che ha un miliardo e 600 milioni di persone significa creare quella gocciolina che magari poi ci consentirà anche di avere qualche turista in più, qualche appassionato. Là c'è una cultura della ceramica, dell'elaborazione che è altissima. Ecco, questo è per dirvi il lavoro che è stato fatto. Prima dai nostri uffici, la redazione, la grafica, poi c'è stata la distribuzione, le presentazioni. Io qui devo dire che ho trovato nel comune di Castellamonte un partner importante che ci ha sostenuto proprio con una serie di iniziative che sono state di supporto. Io mi ricordo la prima presentazione con 200 persone in sala, al centro congressi, a Tinetti. Ma poi come... ma poi una serie di eventi che si sono succeduti nel tempo fino ad avere il piacere di avere una delegazione cinese a Castellamonte che ovviamente poi è stato il consuntivo di tutta un'operazione. Perché credetemi, il valore di un libro, è vero il libro si legge, fa piacere, ma il libro diventa poi il collante, soprattutto un libro come questo, di tante componenti, cioè quella degli artisti che ci sono, quella dell'amministrazione che c'è, quella dell'indotto che crea, quella dei rapporti che vengono riconsolidati. Cioè un libro poi è tutto questo in fondo, un libro legato al nostro territorio, chiaramente non un romanzo, non un libro di poesie, ma anche un libro di poesie lo può fare. Bene, detto questo io ho già parlato troppo, sono già andato oltre, questa è la Sera dei ceramisti e degli autori e quindi a te. Grazie. Bene, volevo anche farvi notare che ci sono le opere dei tre artisti ceramisti, cioè di Teodoro Simone Cobra, di Daniele Buriani Passero e di Massimo Guiducci Facocero, oltre ad avere ovviamente le pitture selfiche di Airaudi, che purtroppo non c'è più, ma che ha lasciato direi molte tracce e la sua presenza direi che è anche molto viva. Entriamo nel vivo del libro e la prima parte è stata curata da Maurizio Bertodatto e si tratta proprio della parte storica. Ha fatto un lavoro grandissimo di ricerca, poi la seconda parte è stata una parte che tratta sul moderno, cioè la congiunzione tra la parte storica e la parte attuale, è stata fatta insieme, infine la parte attuale. Ma mi fermerei con l'apertura proprio delle prime pagine che parla della storia di Castellamonte, come mai a Castellamonte ci sia questa antica tradizione oggi, eccellenza riconosciuta dall'AICC che sta per Associazione Italiana delle Città delle Ceramiche ricordando che Castellamonte è stata socia, fondatrice di questa associazione che ha creato una rete a livello nazionale e internazionale di tutte le città dove oggi ancora è viva questo fare in ceramica e che sta avendo molto successo proprio perché creando rete si crea anche la possibilità di una diffusione maggiore. Bene, a te parola Maruizzi. Buonasera a tutti. Prima di incominciare permettetemi un particolare ringraziamento a tutta la comunità di Damanur, in particolare a Cobra e Opossum che oggi oltre ad averci accolto ci hanno fatto visitare i templi Damanur Crea e un applauso di cuore a tutti gli artisti e gli artigiani di Damanur perché sia nei templi che nei laboratori di Damanur Crea oggi ho veramente potuto ammirare dei veri capolavori d'arte quindi complimenti a tutti voi. Bene, non mi dilungro molto sulla storia della ceramica di Castellamonte è una storia molto antica, così antica da essere più antica della stessa Castellamonte infatti la Castellamonte come borgo risale attorno all'anno 1000 ma la storia della ceramica di Castellamonte, almeno così ci dicono gli archeologi è molto più antica. È molto più antica perché tutte le colline che cingono la città di Castellamonte sono ricche di minerali argillosi e questi minerali argillosi sin dall'antichità sono stati sfruttati dall'uomo parlo al plurale perché nelle colline di Castellamonte non troviamo solo una tipologia di argilla ma diverse tipologie di argille che nei secoli sono state usate in impasto cioè sono state miscelate per ottenere degli impasti mirati alle produzioni che si volevano fare ed è per questo che in più di 2000 anni di storia della ceramica locale a Castellamonte con l'argilla si è fatto di tutto dalle stoveglierie alle terre cotte ornamentali dai grese ai rifrattari sino alle porcellane gli archeologi ci dicono appunto che l'argilla veniva già lavorata in epoca preistorica poi a partire dal 100 avanti Cristo, dal primo secolo avanti Cristo con la dominazione romana venne introdotta quella che insomma viene definita la tecnica e la tecnologia della ceramica produzione ceramica che in un primo tempo ha servito a una produzione diciamo ad uso comune cioè veniva prodotta per essere utilizzata poi col passare dei secoli col perfezionarsi anche delle produzioni le ceramiche locali hanno incominciato a varcare i confini territoriali nel medioevo venivano già vendute nei borghi circostanti a Castellamonte nel 1300 già ad Ivrea e poi a partire dal 1600 inizierono a essere venduti sui mercati di Torino un po' in tutto il Piemonte sino poi a varcare i confini territoriali della regione nel 1700 i minerali locali argillosi e non iniziarono anche a suscitare un profondo interesse scientifico per cui la refrattarietà di queste argille venne anche studiata in modo accademico e da lì incominciò un aumento della produzione produzione che poi a partire dai primi dell'ottocento si trasformò in una vera e propria produzione industriale quale fu il traino la rampa di lancio per questa produzione industriale furono soprattutto i materiali refrattari quindi materiali refrattari sia per le fonderie sia per la costruzione dei forni e poi agli inizi dell'ottocento la produzione di quelle che penso tutti conoscano le famose stufe di Castellamonte stufe di Castellamonte che non sono un'invenzione castellamontese cioè le stufe in ceramica venivano prodotte in Italia e in Europa già secoli prima quello che accadde agli inizi dell'ottocento insomma fu un po' un lampo di genio quando una bottega locale la bottega Reasso padre e figlio ebbero l'idea di prendere i disegni di un fisico americano Benjamin Franklin che alla fine del settecento aveva progettato una nuova stufa quella che lui chiamava stufa Pensilvania che tutti conosciamo come Caminetto Franklin e questi due ebbero l'idea geniale di copiare questa stufa che era fatta in metallo ma di farne tutte le parti in argilla refrattaria la caratteristica di questi caminetti come era appunto il Caminetto Franklin era quella di essere una stufa prefabbricata quindi una stufa che poteva essere venduta tra virgolette in kit di montaggio quindi era prodotta a Castellamonte smontata veniva venduta un po' ovunque quando si rompevano delle parti queste parti erano facilmente sostituibili ed ebbe un grande successo noi in realtà questa famiglia Reasso costruì questo primo caminetto la tradizione vuole che fosse un caminetto alquanto rotto però funzionante e che all'epoca venne venduto per la sbalorditiva cifra di 300 lire noi non sappiamo chi questo caminetto venne venduto in realtà non sappiamo mai neanche se venne veramente costruito quello che la storia ci dice però è che a partire dalla metà dell'Ottocento a Castellamonte si contavano già una ventina di fabbriche che producevano ceramiche di ogni tipo e che impiegavano diverse centinaia di persone questa industria poi crebbe ebbe il suo apice tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento tanto che i gressi materiali riflettari di Castellamonte incominciarono ad essere conosciuti in tutta Italia e venduti in tutta Italia purtroppo l'epopea della storia della ceramica di Castellamonte toccò il culmine appunto in quegli anni e poi pian piano declinò soprattutto a cavallo dei due conflitti bellici tant'è vero che alla metà del Novecento la maggior parte di queste fabbriche erano già dismesse molte vennero distrutte o riconvertite però fortunatamente in quel periodo grazie anche alla presenza di una scuola un istituto d'arte quella che oggi è il liceo artistico di Castellamonte con i suoi insegnanti, con i suoi artisti alcuni riuscirono a recuperare degli stampi, dei macchinari il know-how che ancora c'era sulla ceramica si rimisero in gioco e alcuni di loro e la loro discendenza sono oggi coloro i quali hanno le aziende a Castellamonte gli artigiani e gli artisti della ceramica di cui noi oggi appunto abbiamo alcuni validi rappresentanti qui a questo tavolo grazie ancora per la bellissima giornata di oggi bene, adesso io vi parlo un po' della parte che riguarda la seconda parte la terza parte del libro il moderno ci pareva importante fermare la continuità delle industrie e soprattutto anche la presenza degli artisti mi piace ricordare qui Renzo Igne che è stato un maestro per tutti i castellamontesi e mi piace anche ricordare chi ha realizzato moltissime mostre Nicola Mileti perché ha dato veramente l'importanza a livello internazionale della città con le mostre annuali oggi portate avanti almeno da sette anni a questa parte dal professor Bertero e anche in questo momento devo dire che c'è un richiamo internazionale abbastanza importante per il territorio anche perché si invitano ogni anno negli ultimi tre anni anche nazioni quali la Romania il Marocco la Cina e il prossimo anno lo sappiamo ancora comunque è chiaro che questo è importante perché c'è uno scambio e una conoscenza proprio del fare ceramica sia a livello artigianale che a livello industriale di contemporanea oltre al concorso e agli altri avvenimenti che sono messi in atto dall'amministrazione queste due persone sono state significative e comunque hanno lasciato il testimone ne dimentico uno e qui lo cito perché è andato nell'attuale nel capitolo dell'attuale perché quando l'ho intervistato era ancora vivo ed è Miro Giannola che ricopre un grande campo sia nell'arte ceramica ma anche nella pittura devo dire che molti degli artisti non fanno soltanto non si esprimono solo con il materiale ceramico ma è la comunicazione che è la cosa più importante che vogliono trasmettere lo fanno anche con altri materiali quali appunto la pittura la grafica la serigrafia la fotografia quindi non sono soltanto dei ceramisti ma operano a 360 gradi con i mezzi di comunicazione espressivi che conoscono importante ovviamente sul territorio la presenza del liceo non tanto perché io vi abbia insegnato ma io penso che la tradizione e l'innovazione vengano coniugate e portate avanti dalla trasmissione dei saperi e lì in effetti si fa tutto questo per cui c'è da una parte la conoscenza ma dall'altra anche la ricerca e l'innovazione e questo finché rimarrà nella città di Castellamonte il liceo ci sarà una continuità e un'attenzione verso l'arte in particolare non solo quella dell'arte ceramica ma sicuramente ha un grande fondamento per questo non si parla della ceramica solo di Castellamonte ma anche di tutto il territorio canavesano perché sia un'eccellenza ma è un'eccellenza che in questi anni si è aperta al territorio proprio perché i nostri allievi non provenevano soltanto a Castellamonte ma tutto dal territorio canavesano questo è stato importante perché ha fatto sì che venissero aperte delle attività artigianali direi a Montalto d'Ora a Uzzegna a Cornier insomma su tutto il territorio canavesano le aziende che sono state intervistate sono 11 e invece gli artisti e anche gli artigiani sono 33 per cui direi che ha una realtà vivace ed è vivace anche perché questo l'ho voluto mettere in evidenza sulle pagine del libro perché si aprono tantissime strade non si parla soltanto di artigianato arte oppure dell'industria per quanto riguarda la stufa ma si parla di didattica si parla di restauro si parla di arte e terapia si parla di arte legata alla spiritualità arte funeraria per cui il campo è proprio davvero vastissimo è un percorso una strada che si apre a un dedolo viario incredibile fino ad arrivare a quella che è l'innovazione ovvero la stampa 3D la ceramica spaziale e anche la bioceramica cioè la ceramica che va a sostituire anche le parti del nostro corpo per cui vedete se stiamo attenti ai cambiamenti e anche il liceo li sa cogliere direi che siamo nel pieno anche dell'attualità e quindi il cammino può proseguire con questo direi che adesso entro nel merito del vivo e inviterei alla sua presentazione di Teodora Simono che ringraziamo per quanto ha organizzato in merito alla giornata e anche alla disponibilità tutta Cobra quindi che ci racconti un po' l'importanza del suo lavoro all'interno della comunità come ha interpretato l'arte della ceramica quindi questa valenza anche di contenuti spirituali oltre proprio alla sua passione verso questo materiale ma non solo perché si esprime anche con un altro materiale che adesso ci dirà ci racconterà proprio perché alla fine la comunicazione ogni volta in arte va a cadere su materiali indispensabili necessari ma che abbiano anche le caratteristiche giuste per la collocazione con voi perché questo è il nostro saluto da Manuriano cosa posso dire allora io posso raccontare della mia esperienza e la mia esperienza è un'esperienza che artistica si collega soprattutto alla costruzione dei templi che oggi abbiamo avuto l'onore di presentare anche le autorità le persone qui presenti infatti io tra le opere che ho portato ho portato il busto di Falco che proprio per senso di gratitudine nei confronti appunto di questa persona che è il fondatore della comunità e l'ispiratore anche sia dei templi ma di tutta quanta l'attività spirituale e sociale e direi che c'è un'eredità significativa che ha continuato evidentemente ha insegnato bene perché sta continuando nonostante la sua dipartita per cui il grande significato della sua presenza è stato quello di riuscire ad ispirare a far sognare i damanuriani e quindi anche tutti quanti gli artisti che sono diventati artisti perché io non ero facevo il ferroviere ero un impiegato delle ferrovie dello Stato a Torino Porta Nuova a un certo punto ho smesso mi sono licenziato i miei genitori che volevano uccidermi e ho deciso di mettere su un laboratorio d'arte e di fare l'artista e lo scultore per tutta la vita e direi che sono contento di questo anche se le giunture sono un po' logore per le fatiche eccetera quindi quello che vorrevo dire il significato importante non soltanto per me è stato quello che la costruzione dei templi ha generato una sorta di piccolo grande rinascimento vedremo poi nel tempo storicamente se diventerà un grande rinascimento o un semplice rinascimento o piccolo quello che sia sta di fatto che sono nati i laboratori che sono nati gli artisti che ancora oggi ci sono molte persone che vengono nei nostri laboratori a studiare a imparare e poi a professare la loro arte anche altrove e ultimamente come diceva anche prima credo che ti volessi citare il vetro prima quando hai detto queste nuove arti eccetera ho avuto la possibilità di tramite un nostro conoscente un ex cittadino di Damanhur che si è allontanato una ventina d'anni fa mi ha contattato e stiamo cercando di far rinascere il laboratorio del vetro soffiato per cui nel mio laboratorio è già venuto Matma si chiama i demanuriani lo conoscono Matma Marchi e stiamo cercando di ripristinare questo laboratorio ma anche io voglio cimentarmi perché mi piace sperimentare uno dei canoni della nostra arte è la sperimentazione cos'altro dire io sono anche consigliere comunale a Baldissero infatti lui da una parte mi ringrazia Gino Ferrero da un'altra parte mi maledice perché lo faccio sempre parlare e lui non vorrebbe mentre invece è bravissimo come consigliere comunale e come artista congiungendo le due parti io voglio ringraziare anche voi soprattutto Sandra e Maurizio e l'editore Pedrini per questo libro per la possibilità che questo libro dà di collegare anche altre parti alla ceramica di Castellamonte il fatto che sono citati e c'è uno spazio anche per altri artisti io lo ritengo importante ritengo ceramisti che hanno lavorato che sono magari non proprio di Castellamonte ma sono nel territorio ritengo che questo sia un messaggio importante perché è importante riuscire a fare rete sul territorio creare connessioni sul piano culturale e artistico noi viviamo un momento molto buio per l'umanità e io credo che l'arte la cultura sia un movimento che possa portare modi di pensare invece più legati all'evoluzione al rispetto alla pace all'amore tra le persone un vecchio detto diceva che l'arte aiuta a pensare bene per cui cerchiamo di invadere il territorio di opere d'arte e vediamo cosa succede magari riusciamo a cambiare gli eventi anche a livello mondiale io ne approfitto perché volevo intanto ringraziare l'ospitalità che abbiamo avuto oggi pomeriggio che ho avuto la possibilità di scendere nei tempi di apprezzare queste opere artistiche credetemi io ho girato parecchio nella mia vita non sono un ragazzino ecco quello che ho visto qua è stupacente c'è veramente una connessione tra le arti perché ho visto musica ho visto ceramica ho visto ho visto anche della letteratura con dei libri ho visto ho visto veramente tanto quindi io ero già stato qui ad Amamur 5-6 anni fa ho visto l'abbiamo visitato la parte esterna che bene o male è rimasta bene la stessa però non abbiamo mai avuto poi la fortuna di essere accompagnato da Opossum e da Cov è stata ben altra cosa quindi non è per sdebitarmi ma è che è un grande piacere che le edizioni Pedrini omaggia a Cobra e anche al sindaco che ci ha ospitato oggi un'opera che è di Sandra Baruzzi e ha una ritografia limitata a 50 naturalmente c'è un certificato di garanzia eccetera esteso e io vi ridò proprio con grande ringraziandovi proprio con grande piacere grazie a tutti grazie a tutti bene passerei a Daniele Buriani passero che in realtà è arrivato in comunità ma lui nasce proprio come ceramista di grande esperienza e forse ha portato qui la sua esperienza e l'ha trasmessa a molti direi se ci vuoi raccontare il tuo fare prima e poi quello che grazie con voi anch'io sono un damanuriano con tanti anni sul territorio mi sentite Manta dimmi se deve abbassare ok allora io nasco a Siena non lo faccio lunga non vi preoccupate nasco a Siena e il mio primo contatto con l'argilla ce l'ho a 4 anni scappavo da mia madre e mi infilavo in una fornace di coppi antichi allora antichi allora ero moderno sono ancora quelli vecchi e in qualche modo riuscivo a cartire un po' di argilla e a fare dei soldatini fare delle statune che fare delle mascherine e il mio primo contatto è stato questo e me lo ricordo ancora oggi mi ricordo ancora anche le scolacciate della mia mamma che mi cercava mi trovava a impastare queste cose dentro questa grande vecchia fabbrica ed è stata un'esperienza che mi è rimasta e mi ha segnato da allora la mia vita procede così vado a fare il garzone in bottega da un ceramista a Sesto Fiorentino a 8 anni perché non volevo andare a scuola e ho scelto questo percorso ho studiato poi dopo ho recuperato non vi preoccupate perché mi piaceva ero affascinato non mi facevano toccare l'argilla all'inizio però poi piano piano dicevano devo spazzare tanto dove pulire tanto per poi riuscire a toccare questa sacra argilla e ero contornato di personaggi che non avevo idea io c'avevo Garibaldi da una parte Napoleone era il capo dell'ufficina c'era Dante Dante era anche mio nonno si chiamava Dante insomma ero ben accompagnato diciamo che era un bel gruppo una bella squadra e incontro il maestro il ceramista proprio che poi è quello che mi formerà e arriverò a fare anche il bucchero non l'avevo detto ma è una cottura riduzione della dei vagi etruschi perché comunque io da Siena mi sposto poi in Maremma nella Grosseto apro un laboratorio che subito tolsi le porte del laboratorio era un laboratorio sulla strada centrale di questa città Grosseto e entravano tutti di tutto di più e mi guardavo sempre venivano ragazzi adulti a vedere come lavorava ed era la mia tecnica per farli innamorare di quello che era il rapporto con la ceramica poi da lì arriva Damano arriva Damano e questo grande gruppo di persone bellissime e c'era da dedicarsi comunque a fare anche delle opere d'arte dei pezzi importanti allora mi do un'occhiata intorno al territorio territorio come raccontava prima il botto e c'erano delle vecchie cave abbandonate e andavo proprio a cercarle con lumino perché ho trovato anch'io riflettari della Sacce che poi è la terra rossa era dappertutto ce n'è ancora ci sono ancora dei bacini sedimentati che sono solo da da prendere e poi sono innamorato di questa terra rossa era una cosa incredibile poi aveva una quantità di di ferro che gli dava questo rosso forte che è unico non ce n'è da altre parti io ho trovato tante terre rosse ma questa di Castellomonte è una roba incredibile e in questo muovermi incontro un piccolo uomo io lo chiamavo piccolo uomo perché era sembravano ogni uomo uscito dal bosco ed era Bruno Chiantaretto un personaggio stupendo che come ci si incontra non lo so c'è subito un flerte importante e lui gli dice cosa cerchi e gli racconto cercavo dell'argilla perché volevo fare delle cose non potevo stare troppo fermo e questo uomo mi guarda e mi dice mi sei simpatico ancora non ci si era conosciuto di quello mi sei simpatico ti darò delle dritte ti dirò delle cose e da lì nasce un rapporto questo personaggio per me è stato non perché ce ne sono i minori ma Bruno è stato un ceramista di Castellamonte molto importante che è molto umile molto silenzioso infatti non parlava mai anche con me però poi ha cominciato a parlare e quando ci siamo incontrati lui non faceva guardi più la ceramica aveva tutte le sue macchine tutte le sue cose però era sotto la cupola della moglie che loro portavano avanti quello che oggi è ancora presente con la figlia il ristorante figlia ma dietro al ristorante c'era poi un mondo una fabbrica di ceramica incredibile lui c'era una stanza un appartamento dove c'era tutti i torni aveva e aveva il forno un forno unico un forno una stanza di un forno all'anno e io mi sono innamorato di questo forno lui aveva tante lui faceva tante toffeie era forse il primo che è stato a non so però penso uno dei primi a produrre le toffeie tra l'altro aveva autoprodotto anche la cristallina insieme a queste toffeie che non era così da tutti però mi aveva parlato anche di questo insomma io gli chiedo ma perché non riaccendiamo questo forno e finisce di cuocere tutta questa marea di toffeie ce ne aveva tante e aveva fermato la funzione allora lui guarda e dice ma io non voglio più lavorare perché devo chiedere avanti di ristorante ti aiuto vengo a fare le cameriere però facciamo una cottura insieme e siamo riusciti a fare due cotture non so quante pignatte toffeie che si misero dentro a questo forno una pila enorme grande una stanza che non ho il metro però c'era tanta roba ma la cosa la caratteristica bella era che una volta finito tutto abbiamo murato la stanza con tutto dentro con tutto l'apparato le bocche che c'erano sotto scusate se do un po' di dettagli ma mi piace perché per me lui è stato un cuore importante della ceramica e lì abbiamo dato fuori con la legna che tra l'altro doveva essere legna stagionata non doveva macchiare il castagno no quello sì insomma tutte queste cose qui abbiamo acceso per due giorni e mezzo continuamente questo forno e poi il bello che abbiamo aperto è stato lui aveva e ancora oggi ci sono tutte delle macchine dei primi del novecento che si facevano partire con le ciglie era una cosa che lui e la terra che lui aveva l'ha poi ce l'ha poi data a noi per poter fare questo tempio aperto che chi avrà l'occasione di andare a visitare a Damir che è chi è ballizzero vedrà queste ventiquattro colonne che poi ci ha permesso di costruire tutti insieme tutti i ragazzi di Daman abbiamo costruito duecento moduli di terra cotta rossa e montate queste colonne è stato grazie io devo rendere merito a Bruno perché è stato ci ha fatto usare tutte le macchine ci ha fatto dare tutta la sua argilla che era super stagionata che era raccolta da lui nel territorio io ringrazio moltissimo per questa testimonianza adesso c'è la consegna di un altro riconoscimento questa volta è un libro sempre delle nostre edizioni per Opossum tra l'altro domani preparatevi per un applauso domani si sposa per la Dio a Ceribato vediamo tra un'oretta va bene adesso inviterei Massimo Guiducci Facoccero visto che intanto vi prego di ammirare i vasi che ha tornito poi dopo a conclusione se qualcuno si vuole cimentare ti lascio il posto io e volevo dire che il ristorante si chiama all'Oriente e lì potete andare a trovare proprio il forno perché esiste ancora quindi chi fosse stato incuriosito dal racconto può verificare di persona a te la parola volevo consigliere regionale che vuole salutare perché ha un altro impegno intanto grazie della presenza grazie ancora scusatemi se purtroppo non posso ancora trattenermi ma per un altro impegno grazie buona serata buon lavoro un altro appuntamento le nove meno un quarto quindi è ora di andare grazie di tutto vado prima che se ne vadano tutti allora io sono allievo dell'allievo dell'allievo e il mio ultimo e il primo maestro è Passero un applauso a Passero che ha iniziato tutto allora la mia storia con la ceramica è bellissima lunghissima e io sono un come dire un appassionato di ceramica la ceramica mi ha dato anche da vivere però non è proprio solo il mio lavoro io sono molto grato ad una ad una cosa che noi facevamo a Damanhur 40 e passa anni fa arrivavi a Damanhur e ti chiedevano che cosa ti piacerebbe realizzare cosa ti piacerebbe fare era vi ricordate le lettere del gioco qualcuno se le ricorda non ci sono più io scrissi mi piacerebbe imparare a usare le mie mani ho realizzato questo sogno grazie a passero che ha portato su il suo laboratorio ho cominciato a lavorare da lui e mi faceva disegnare e allora sono scappato ho preso il tornio sono scappato sono venuto e ho messo su il laboratorio e adesso sono al quarto laboratorio perché ogni tanto fallisco e poi dopo riprendo perché non non riesco a smettere io mi hai rubato tutto l'intervento su Bruno quindi non posso dire più niente di Bruno e quindi la mia grande soddisfazione nel tempo è stata quella di già dagli anni 80 85 feci il primo set di piatti per tutta la comunità cioè ero appena uscito dalle grinfie di Bruno che mi aveva insegnato a lavorare al tornio e mi sono messo per conto mio presuntuosamente con della terra tenerissima mi sono messo a fare di piatti sottilissimi immaginate che questi piatti poi sono finiti velocemente nella mensa comune e sono durati una settimana allora quindi io sono arrivato adesso arriverò alla quinta dopo 40 anni arrivo alla quinta generazione di piatti sono un piattaro sono un povero un piattaro poi nel tempo ho avuto il grande onore di partecipare come dicevano i miei colleghi ceramisti alcune cose le abbiamo fatte insieme ho avuto anche l'onore davvero di realizzare qualche cosa per l'arte nel nel tempio ed è stato poi anche un altro corso quello che ho dato al mio percorso con la ceramica che è quello dell'insegnamento cioè quello che io ho scoperto cerco di farlo scoprire alle persone che fanno i corsi con me cioè questo questo piacere attraverso le mani di creare di vedere delle cose dal nulla cioè questi questi un pane di terra un pacco di terra diventare qualche cosa che attraverso la dovuta calma il dovuto rapporto positivo come diceva Cobra l'arte che richiama delle cose positive ecco che le persone realizzano delle parti di sé e quindi nel tempo ho diciamo molto sviluppato questa parte diciamo unendo la pratica al mio al mio al nostro percorso spirituale poi ho unito questo con la laurea l'ho fatto laurea in psicologia l'ho fatto anche diventare un qualche cosa voglio dire che potessi avere anche quella quella dicitura ma in realtà l'esperienza che noi facciamo in Damanhur non ha tanto bisogno di diciture perché l'esperienza che abbiamo fatto noi che avete visto voi oggi nel tempio passa attraverso non le parole non l'interpretazione ma passa davvero attraverso le mani ed ecco che questa è un po' la mia storia e quello che io posso fare ancora è quello di portare avanti il laboratorio di di vasellame lo sto facendo e lo stiamo anche un po' rilanciando per la quinta volta vediamo di fare i piatti che durano più di una settimana allora in questa comunità si respira certamente un grande entusiasmo ma non soltanto verso l'arte bensì una grande preparazione io veramente oggi ho anche oltre aver visto le prime ricerche di vetro soffiato sono andate nei laboratori dei vetri del mosaic vi dico grande veramente preparazione e qui al tavolo ovviamente sono stati chiamati altri due artisti a portarci la loro esperienza Emilia Gambarrotta Gambarrotta di Medusa che coltiva più la pittura diciamo come sua espressione e linguaggio di comunicazione e anche Giovanni Bassoli che fra l'altro ci ha accompagnato è stato un cicerone incredibile che fra l'altro è stato un mio collega quindi ha una conoscenza di lunga data dove si occupa di restauro perché fra di loro in questa comunità hanno la grande sapienza di collaborare e di unire le arti di fare un lavoro interdisciplinare e questo è fondamentale lascerei a loro le ultime battute proprio perché ci raccontino la loro esperienza e il valore di questo lavoro di comunità grazie sono Medusa faccio parte del gruppo degli artisti da Manuriani e in particolar modo dei pittori del Tempio e infatti stasera parlerò in poche parole in pochi minuti di un argomento molto molto ampio e cerco di trattarlo nel suo significato artistico più centrato possibile allora parto un po' dal mio sentire quello che mi ha sempre attratto nell'arte cioè il mio anelito artistico profondo principalmente è la parte dei significati dell'arte il senso del sacro il racconto di una storia temi simbologie che hanno radici nello spirituale e in questo mi sono riconosciuta pienamente fin da subito nel modo di concepire l'arte ad Amanur parlando del Tempio quello che ho imparato e vivo quotidianamente da 35 anni l'essere un artista di popolo cioè fare arte per il Tempio significa fare arte per il popolo e significa dedicare l'opera nel suo complesso dall'ideazione all'esecuzione sulla base di una trasmissione di significati non soltanto per sé ma per tutta la collettività di cui si fa parte e per me per il mio vissuto essere artista per il Tempio è l'esempio per eccellenza di questo modus e anche per il senso del sacro che si vive quotidianamente che si esprime quotidianamente ovviamente ognuno ognuno di noi degli artisti ha un proprio stile una propria creatività una fantasia individuale ma quando operiamo per il Tempio il nostro strumento di lavoro è il gruppo e l'integrazione e quindi brainstorming confronto l'effetto bottega il sapersi interscambiare gli uni con gli altri cioè ci si perfeziona per essere in grado di eseguire tutto ciò che serve ma anche si lascia spazio a chi invece può fare meglio alcune parti il senso dell'opera collettiva del Tempio dell'uomo è che stili e capacità personali siano integrati tra di loro in modo da manifestarsi come un'opera unica dove non si non si distingue una mano dall'altra e questo accade per tutti gli artisti e i laboratori che collaborano per il Tempio dell'uomo e comunque per l'arte indamano c'è la statuaria le artiste del vetro del mosaico e i restauratori noi siamo dentro un'opera vivente all'interno di un ecosistema biologico sotterraneo con un proprio microclima molto speciale quindi questa creatura ha bisogno di essere protetta e quindi anche un laboratorio come quello del restauro per il Tempio è in continua ricerca e sinergia con gli artisti e con i costruttori per trovare le migliori formule e soluzioni arte nel Tempio e anche architettura cioè è architettura innanzitutto secondo la visione di Damanhur l'architettura è la prima arte richiede sinergia tra progettisti ideatori costruttori anche l'architettura con le sue forme le profondità le misure le linee trasmette dei significati e crea quel contenitore che poi si riempie di preziosità con le opere d'arte le opere figurative che a loro volta raccontano una storia ma anche poi successivamente per altre forme d'arte come la danza la musica il canto il teatro e diventa in questo modo una opera artistica completa questo è un po' un riassunto forse superficiale di cosa può significare lavorare per esempio passo la parola a Possum che conclude con voi buona serata io sono Possum e ho avuto oggi l'onore di accompagnare delle persone questo forse è il mio più grande ringraziamento è quando porto le persone all'interno del tempio che per me è un spero mi auguro che come diceva prima cobra sia un seme di un movimento che possa portare luce possa portare felicità all'interno delle persone come abbiamo rappresentato in una sala dove ci sono tutte le divinità che però tra di loro sono amiche quindi hanno hanno le loro caratteristiche alcune sono divinità guerresche altri sono divinità della vita della morte dell'arte eccetera abbiamo fatto una ricerca molto approfondita e il significato che desideriamo trasmettere è che possa esistere la diversità quindi la biodiversità anche nella concordanza che non sia una guerra ma che sia una guerra d'arte come abbiamo fatto a Damanhur tanti anni fa forse è una delle emozioni più grandi portare le persone che ammirano le opere alle quali ho anche contribuito per tanti anni nella pittura contribuisco ancora nel restauro perché sono un restauratore di dipinti e mi ricordo un episodio di tanti tanti anni fa stavamo dipingendo nella nella sala della terra che abbiamo visitato oggi e c'era una c'era una porticina di legno dove siamo scesi e noi non sapevamo che cosa si faceva nell'altra sala perché stavamo dipingendo lì a me si ricorda molto bene e sentivamo il martello pneumatico che scavava scavava e noi non sapevamo cosa c'era dall'altra parte ce lo immaginavamo ma non lo sapevamo allora un giorno viene Falco appunto il nostro fondatore nonché maestro spirituale dice venite venite scendete scendete eravamo su dei trabatelli che non adesso non vi trasmetterò come erano fatti i nostri ponteggi ci sono ingegneri 8108 spero di no erano delle cose molto molto artigianali come dire molto artistiche tanto è vero che coniamo un termine per che ancora oggi forse i miei fratelli pittori usano che è trabattuma cioè costruiamo un trabatello e o un ponteggio e praticamente Falco prese la porticina di legno la tirò giù così e disse guardate un po' e c'era una sala scavata quindi noi rimaniamo sconvolti e dice adesso dipingeremo faremo i bozzetti e poi costruiremo un ascensore anzi no ne costruiamo due e per noi all'epoca era una cosa assolutamente da fantascienza perché andavamo nel tempio con la felpona nevicava c'era il fango c'erano queste cose che c'erano una volta insomma e lui disse costruiamo un ascensore anzi due ne costruiamo due poi verranno le persone da tutto il mondo e verranno in aereo arriveranno a Torino a Milano con degli autobus e così noi potremmo trasmettere questi significati a tutto il mondo poi ci guarda perché noi l'abbiamo guardato come dire è impazzito il povero maestro è diventato matto perché per noi era una cosa assolutamente incredibile incredibile invece come avete potuto vedere è stato fabbricato ci guarda negli occhi e dice facciamo cose pazze che è una cosa che sentita da dire da lui che era l'uomo più piemontese che io ho conosciuto era ancora più umoristica quindi nel mio cuore nell'anima rimane questa spero nell'anima insomma rimane questa traccia di desiderio di trasmettere conservare e migliorare sempre questa idea che può attecchire in milioni di altri modi differenti perché come interpreta un pensiero di arte di pace collettivo quindi di unione delle arti magari un luogo anche molto lontano da questo delle persone con culture molto differenti noi non lo sappiamo come può essere anzi è ancora più interessante vedere come potrebbe essere interpretata un'opera collettiva fra vent'anni cent'anni mille anni se ne esisteremo ancora e quindi di immaginare proprio che questo nostro seme germogli come i fiori del tarassaco che è il simbolo di Damanhur quindi il simbolo di Damanhur è proprio il tarassaco perché il tarassaco sapete è commestibile è giallo diventa il famoso soffione che si diffonde nel mondo e quindi è un fiore infestante ma di una infestazione positiva ecco questo è il desiderio più grande che penso che noi possiamo trasmettere bene ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e nel ruolo di moderatrice quella che mi è stato assegnato questa sera direi che ringrazio il pubblico mi scuso perché ci siamo dilungati oltre ma gli interventi avete visto sono numerosi dico che ancora due cose tre anzi prima di tutto di chi non ha visto i vostri templi di di visitarli è proprio un invito e anche noi ci faremo diffonderemo questa parola secondo di visitare la città di Castellamonte nel suo momento di massimo splendore per quanto riguarda l'offerta ceramica cioè durante la mostra della ceramica terzo in fondo se vi è interessato la presentazione del libro acquistare il libro perché così le edizioni sono contenti molto bello e quarto facciamo gli auguri di una giornata splendente di sole a Opossum per domani grazie ci sposerà cobra pensate un po' con la fascia tricolore grazie